Salve a tutti amici, come state? Spero tutto bene. Oggi video completamente diverso dal solito, il mio primo e vero eating sound. Il primo è vero perché ne ho già fatti altri piccolini dove mangiavo degli snack, delle patatine e dove tra l'altro non parlavo. Invece questo è il primissimo video in cui mangerò della buonissima pasta con il tonno e le olive e farò due chiacchiere con voi. Io vado matto, ma cosa dico? Mattissimo per il tonno e perciò anche per la pasta con il tonno e non potevo non iniziare questo tipo di video se non con questa pasta al tonno. Perciò io spero che questo video vi piaccia e iniziamo subito. Vi faccio rivedere la pasta che è questa qui. C'è tonno, olive e c'è anche aggiunto della salsa di pomodoro per rendere il tutto più omogeneo e più buono. Ecco, alla fine è solo per quello. Piatto nero dell'IKEA perché bisogna essere super Instagramer e Tumblr. E io direi di iniziare subito. Ho con me il mio fidatissimo tovagliolo perché io non posso mangiare senza il tovagliolo. Mi devo pulire la bocca almeno 12 volte al minuto. Iniziamo subito. Allora, buon appetito a me ma anche a voi. A me la pasta piace mangiarla molto molto al dente. Perciò mi va anche bene, visto che magari ci vuole qualche minuto in più per sistemare il telefono e tutto quanto. E magari una pasta cotta alla perfezione si sarebbe scotta. Invece nel mio caso è rimasta ancora perfettissima. Mamma mia, che buona. Invece nel mio caso è rimasta. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma non posso. Sono italiano al 100% e almeno il primo video deve essere con la pasta. Ed eccomi qui. Però il sushi arriverà molto, molto, molto presto. Anzi prestissimo spero. Grazie a tutti. 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 chiusa e con un suono e un movimento continuo come può essere quello della masticazione però gusti personali assolutamente però mio gusto personale io un altro motivo è questo qui che proprio con la bocca aperta faccio una fatica a guardarli però li guardo per vedere quello che mangiano assolutamente sì perciò lo dico alla fine ma lo dovevo dire all'inizio in realtà di questo video se non vi piacciono questi tipi di video assolutamente fate benissimo a non farvi di piacere ho un'altra marea di video sul mio canale potete andare a vedere quelli lì era perché volevo sperimentare qualcosa di nuovo poi tra l'altro anche alcuni di voi mi hanno chiesto di provare a fare qualche video e allora eccomi qui che ci provo a me piace più farli che non tanto guardarli perciò poi fatemi sapere anche voi se vi piacciono e vediamo se riusciamo a venirci incontro ecco nel frattempo credo di aver buttato giù troppa la pasta perché è avanzato un pochino però sono stato più che bravo sono molto soddisfatto del risultato di questo succo ma a me basta che dico quelle volte e questo qui è lusso estremo però ho detto mi devo impegnare un pochino di più perciò taglia le cipolle e falle soffriggere mettici le olive aggiungici il tonno insomma il succo rosso bisogna fare qualcosa di fatto bene ed è così diciamo che questo è stato un video prova per vedere prima di tutto come potermi anche organizzare con la postazione infatti per far vedere il piatto ho dovuto mettere su un'agenda perché se no non si vedeva il microfono per vedere come si sente diciamo che questa è stata più che altro una prova sia per me per vedere com'è e anche per voi per darmi dei consigli per vedere soprattutto se vi piacciono questi tipi di video io e la mia pasta col tonno vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video ciao amici ciao